ciao stefano guardiamo dal mare che si si uccida dove vai? non fare rumore sui tetti della gente questo è il mio tetto qua quindi se volete venire su secondo me è meglio sono i periccioni guardate che bello cosa? questi qua? e i comignoli perché? ma sta per divertirsi si veni di qua veni su di qua così è un sorpo a casa mia allora questa è la video intervista di jason sul tetto questo è sul tetto e questo è parigi guarda il tuo rifel la vedi? quella là è il tuo rifel ehi si vede il tuo rifel da qui dio che ha quel cazzo di palazzo in mezzo guarda ecco stefano che soffre di vertigini stai sui lati stefano se non caschi sui lati ecco vai sui lati sui lati su su sui lati si su sui lati no sul lato la vai su la ecco dove è andata la Mari? la Mari è buono sono andata a prendere il caffè Mari vedi tu rifel? si è il mio madre il sacro del cuore wow questa è molto bella si cosa? ah è una sigaretta? bea da rollare? porta porta